E' stata colpita e trascinata da una motrice di un treno motore per qualche metro mentre cercava di attraversare i binari che costeggiano via Friburgo a Padova. Una ragazzina di appena 12 anni ha in fin di vita. La minorenne è stata investita intorno alle 14.30, stava tornando da scuola. Il macchinista, la guida della motrice sotto sciocca, ha raccontato ai vigili del fuoco intervenuti che se l'è vista davanti non è riuscita ad evitare l'impatto. Sul posto immediatamente sono arrivati i medici del 118 che hanno trasportato la 12 anni d'urgenza in pediatria dove è stata ricoverata in condizioni disperate. La prognosi è riservata, decisive le prossime ore per capire l'evoluzione del quadro clinico definito gravissimo. L'incidente è avvenuto lungo via Friburgo sull'attraversamento ferroviario. Sembra che la minorenne stesse tornando a casa da scuola. Sul luogo dell'investimento anche gli agenti della Polfer che stanno cercando di chiarire la dinamica e se la 12enne fosse sola o in compagnia di altre persone al momento dell'incidente.